San Donato Street Basket, un gol per la legalità con i ragazzi dello Zenne di Palermo. Coltiviamo legalità, passeggiata della legalità. Giovani e legalità, le regole del gioco, scuola, sport e legalità. Il Tribunale si apre ai ragazzi. Sono i temi e i titoli del programma di eventi che si svolgeranno a Pescara dal 20 al 23 maggio prossimi per celebrare la giornata nazionale della legalità. Capaci di giornate della legalità 2023. È un'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali e sicurezza urbana del Comune di Pescara. Capaci di, è proprio dove anche i ragazzi sono protagonisti. Io ringrazio tutte le istituzioni scolastiche che hanno voluto con forza collaborare con noi all'interno di questa stesura e di questo programma. È stata la prima nostra iniziativa ma abbiamo tanti bei riscontri. Quindi sono contento perché poi verranno quest'anno anche dei ragazzi direttamente dal Zenne di Palermo, anche da Bari Vecchia, proprio in questa maniera anche da collaborare e fare anche con i ragazzi di altre cittadine un solo slogan, legalità, legalità, legalità. Alla presentazione di Capaci di, dirigenti scolastici di tutte le scuole coinvolte nelle iniziative, è Domenico Trozzi, fondatore e presidente onorario dell'associazione Onlus, prossimità alle istituzioni. Il 23 maggio ci sarà una giornata particolare? Sì, il 23 maggio verrà Rosaria Schifani che verrà a sue spese, questo non dovrei dirlo ma le fa troppo onore, ha rifiutato il rimborso delle spese di viaggio, dell'albergo eccetera. Verrà perché io ero amico di Vito Schifani, fece concorso per pilota della polizia, io a quei tempi comandavo il reparto elicotteri di pratica di mare e purtroppo una settimana prima di partire per il corso di pilota presso l'arrematica militare è morto con Falcone, nell'evento che tutti conoscono. Verrà Manuela Olivieri, vedova Mennea, presidente dell'associazione Mennea. Mennea è uno che mi ha aiutato a costituire questa associazione, prossimità alle istituzioni.